Quale tra questi è un sinonimo più formale per andare? Protendersi, recarsi o dileguarsi? La risposta corretta è recarsi. Infatti protendersi significa volgersi verso qualcuno o qualcosa con curiosità, desiderio o fare minacce. Ma significa anche semplicemente sporgersi. Dileguarsi invece significa scomparire, sparire fuggendo. Questa mattina non mi sentivo molto bene, quindi mi sono recata al pronto soccorso.